Per quale ragione veniva spacciato per reperire in realtà titoli che sembravano più titoli da una stamperia, che avevano una validità vera e propria, per quale ragione si era passata dalla Padella Labrace da Mussari a profumo, per quale ragione si riesce a premiare per tutto quel che aveva commesso Mussari e soprattutto per quale ragione non si era ritenuto questa realtà di adeguare a un principio di democrazia della concorrenza, pacifico ormai, che è quello di liberare il mercato delle azioni e non lasciare nella maggioranza il controllo della stessa a una fondazione a sua volta controllata dalla politica, soprattutto dopo che nella evoluzione degenerativa del sistema non era più neanche la politica che controllava il sistema bancario, ma ormai era diventato il sistema bancario che determinava la politica, sicché la politica ne è diventata complice, corresponsabile, ma anche succube, se si voleva fare strada e avere successo politica qui bisognava passare anche attraverso questo sistema e viceversa, fino ad arrivare al punto dell'assurdo che nella contrattazione degli emolumenti da dare ai dirigenti bancari bisognava anche stabilire quando un territorio non devono andare ai partiti. Presidente, oggi siamo in una fase in cui è bene che lo Stato intervenga e intervenga sia con il controllo della Banca d'Italia, sia direttamente, ripeto, lo poteva fare l'anno scorso e per questo io ritengo corresponsabile, certamente politico, ma anche sul piano etico, visto che lui lo fa un professore, perché dice che capisce tutto lui, il governo Monti, lo ritengo corresponsabile perché sia per azione omissiva, sia per azione attiva, omissiva perché avvisato non ha agito, commissiva perché avvisato che non doveva, doveva revocare quell'assegnazione di 2 miliardi dato al buio in quel modo, gliene ha dati altri due, anche oggi in realtà, mentre ne stiamo parlando, si sta pianificando qualcosa di anomalo in Commissione Finanze, perché Grilli sta dicendo che in realtà non si tratta di un prestito grazioso, ma di un prestito che sarà restituito con un'altra tassazione al 9%, vuole fare pure il 99%, il problema è che adesso è questo, hanno i soldi per i tagli, perché finora quel che a noi interessa è soprattutto che cosa succeda agli azionisti, l'altro ieri io stavo in, vi racconto questo fatto e poi vi lascio le vostre domande, l'altro ieri io stavo in Svizzera, stavo a Zurigo ad aprire la campagna elettorale, c'era un signore che mi voleva parlare con le raglie Magliozzi ed era un lavoratore con la sua famiglia che aveva investito 250 mila Euro, tutti i soldi nella vita, perché doveva poi un giorno comprarsi la casa, l'aveva investito in Montepassese, tutti in azione Montepassese, il risultato è stato che ogni giorno 8% di me, 8% di me, io ma già che ci faccio, che cosa devo fare, che cosa mi consigli di fare, compro un paio di manette, vieni con me, mi era venuto voglia di dire, però il problema di fondo è che quindi non sanno più cosa fare, questa indecisione è terribile, io ritengo che ci sia questa corresponsabilità, la cosa più brava è poi stato detto quando ho sentito dire che adesso voglio commissariarlo, ma affidare il commissariamento a profumo, non ho mica capito, il commissariamento per definizione deve essere a un terzo, non a quello che deve essere controllato, perché se si controlla se stesso, si guarda allo specchio e fa come Monti, Monti che dice tutte le mattine? Quando è bello tutto quello che ho fatto? E poi si guarda la sera e dice, devo cambiare tutto quello che ho fatto perché l'ho sbagliato. Per i fatti precedenti per il governo Monti, la responsabilità dove lo vede, ha parlato del rapporto tra politica e banca, la fondazione Monti di Paschi è controllata dal Comune, la politica. Ho già detto, quando si parla di corresponsabilità, la corretà presuppone che ci sia la responsabilità è dell'una e dell'altra parte, se questa abbia anche una rilevanza diversa da quella etica e politica, lo valuteranno gli ordini di controllo nei loro diversi gradi, ma è non ben dubbio che responsabilità c'è, però torno a ripetere, a mio avviso, oggi come oggi, il potere finanziario si è appropriato anche del controllo della politica e viceversa in un comportamento che è di tipo massonico, anzi massonico è poco, geliano, nel senso che ognuno nel suo posto ha fatto formalmente il suo dovere per fare in modo che tutti i membri della congrega, che è diversa dalla congregazione, tutti i membri della congrega potessero averne inutili. Ecco perché io ritengo che sia una pagina brutta di storia alla toscana geliana, non alla toscana dei padri contadotti. Scusi, qual è il messaggio che vuole lanciare? Io non lancio un messaggio, ho fatto qualcosa di più, ho fatto una denuncia formale l'anno scorso al Presidente del Consiglio, nell'ambito del quale chiedevo formalmente di interessare gli organi di controllo, Ivi compresa la Procura della Repubblica. Altro che messaggio, io rivendico una denuncia formale di cui il Presidente del Consiglio per atto omissivo, lui e il Ministro dell'Economia non ha voluto dare seguito e io credo che questa sia una responsabilità politica di cui essi devono dare conto ai cittadini italiani. Anche oggi, mentre in Parlamento, stanno lì a raccontare di tutto quello che hanno fatto di buono, facendo passare per attività di controllo quel che invece è stato un aggravamento della situazione, perché l'anno scorso potevano fare in modo di salvare la situazione. Oggi, se lei pensava a finire, io dico, per l'amore di Dio, oggi andrà a finire come succede in certe sale operatorie, che il medico esce il momento dopo e dice ai parenti, operazione perfettamente riuscita, il paziente è morto, i dipendenti rischiano di andare in cassa integrazione, i risparmiatori, quel che valeva 100 vale 10, bella roba. Ma anche l'Italia ha fatto la sua attività di controllo sul monte dei Paschi in maniera adeguata, secondo lei. Formalmente tutti hanno le carte in regola, per questo io dico che si tratta di un giro e raggiro massonico, perché formalmente tutti hanno le carte in regola, ma è la sostanza che non hanno fatto e perché? Non perché sono stati inesperti, non perché sono stati incapaci, ma perché ognuno aveva un interesse particolare a che ciò avvenisse, per intenderci. Ma Mussari, chi l'ha fatto Presidente dell'ABI? Io, è stato fatto Presidente dell'ABI, vuole dire che c'è un circuito di controllo di relazioni e interrelazioni, per cui Mussari rappresentava la garanzia al sistema bancario verso il sistema politico e viceversa. Quindi dire oggi che la Banca d'Italia è al di sopra di ogni sospetto è come dire oggi che, siccome stava facendo il palo, non ha partecipato della rapina. Sussiana cosa può dire? Come è qua il Montefaschi è uscito da questa situazione, visto che l'ha posto l'accento sia sui dipendenti che sui risparmiatori e persino al Montefaschi è tutto? Io credo che si deve lavorare su più fronti. Prima di tutto lo Stato si deve fare carico con questa nazionalizzazione che andrà fatta in epoca non sospetta. Secondo, con un intervento amministrativo e giudiziario che sequestra tutti i beni di tutti i mobili e immobili, diretti indiretti di quelli che si sono macchiati di questi mal comportamenti fino ad accertare anche le responsabilità conseguenti. Infine, e questo è un appello politico che intendo rivolgere, in difesa del cittadino elettore non diciamo più che dobbiamo aspettare le elezioni per sapere che fino hanno fatto quei 2 miliardi e dove sono andati a finire quei soldi che hanno transitato nei conti del Cayman, Londra e compagnia bella, perché lì c'è puzzo di bruciate o come diceva il vecchio PM di Pietro c'è puzzo di mazzette il rosso come una casa. Grazie.